La comunicazione all'estero sarà basilare perché il contributo d'accesso a Venezia non rischi di disincentivare il turismo da oltre confine, parla l'associazione veneziana Albergatori. Identificato il giovane che ha percorso in Vespa la fondamenta delle Zattere è un 19enne olandese che oltre al Daspo da Venezia ha ricevuto una multa da 600 euro. Tragedia in Istria, una 39enne di 90 di Piave ha perso la vita assieme a un 46enne di Oderzo nello schianto tra la loro moto e un furgone, lui è morto sul colpo lei in ospedale. Un 27enne di Pianiga ha denunciato dai carabinieri assieme a un'altra persona per aver aggredito a calci e pugni e con una violenza inaudita un 37enne a Bassano. 20 steward vigileranno tutta la notte sulla movida jesolana, il comune ha dato il via a un nuovo provvedimento per evitare risse e vandalismi nella località balneare. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha sequestrato un'area di 500 metri quadri adibita di scarica abusiva e svariate tonnellate di rifiuti, due persone sono state denunciate. In contemporanea al resto del paese sono partiti oggi in Veneto i saldi estivi, secondo un sondaggio di Confiser Centi Venezia rimangono un momento atteso dal 60% dei consumatori veneti. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Si continua naturalmente a discutere di quella che è una svolta per Venezia, il contributo d'accesso. La comunicazione che verrà data all'estero sarà basilare, secondo l'associazione veneziana Albergatori, perché il contributo d'accesso alla città non rischi di disincentivare il turismo da oltre confine. Sarà sicuramente importante comunicare nel modo corretto in tutto il mondo che oltre alla tasse di soggiorno non c'è anche un contributo d'accesso, ma quello lì deve essere uno strumento utile a vivere meglio la permanenza nella città. Una novità importante come l'introduzione del contributo d'accesso a Venezia deve avere una comunicazione chiara e soprattutto diffusa al pubblico cui è diretta, cioè nel caso di Venezia e il mondo. È pratico l'approccio dell'associazione veneziana Albergatori al provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2023. Dobbiamo uscire da quelli che sono i canali di comunicazione interna di città o di paese, ma bisogna iniziare a lavorare molto con la stampa estera, con tutti i canali di comunicazione che siano i grandi operatori turistici che sappiano dare l'informazione corretta. Il provvedimento dunque non dispiace agli albergatori e sicuramente viene ritenuto preferibile ai tornelli. Si attende poi alla prova dei fatti la gestione del flusso di informazioni tra chi per notta ed è esentato dal contributo e il visitatore giornaliero che invece lo dovrà pagare. Buono anche il giudizio sull'emendamento che affida al comune la limitazione e regolamentazione delle locazioni turistiche. Il tipo di strutture inizialmente nascevano con infatti una stanza libera in casa, l'affitto, allora in quel caso diventa davvero integrazione al reddito. Così quando uno inizia a avere uno, due, tre, dieci appartamenti e li gestisce come fosse una struttura alberghiera, perché a questo punto magari ha cento posti letto, forse devono esserci delle normative e delle regolamentazioni che siano analoghe a quelle delle strutture. Si diventa anche una forma di concorrenza non proprio corretta all'interno della città. In 24 ore dense di novità per il futuro del turismo a Venezia, merita un posto anche l'aumento dei costi del biglietto del vaporetto per chi non ha l'IMOB da 7,5 euro a 9,5 euro. Speriamo che corrisponda anche a un miglioramento della qualità dei servizi che sono già molto buoni, ma che possano essere più efficaci per tutto quanto il territorio comunale. Chi invece per un bel po' non potrà più accedere a Venezia neanche pagando è il giovane che ha percorso in Vespa la fondamenta delle Zattere. Il video ha fatto il giro del web, è stato identificato, si tratta di un 19enne olandese. Oltre ad un'enorme popolarità sui social network, il giro in Vespa lungo la fondamenta delle Zattere a Venezia è costato ad un 19enne olandese la bellezza di 600 euro di multa in base agli articoli del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che sanzionano le infrazioni con gli autoveicoli e gli atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie. I fatti si riferiscono a mercoledì scorso, quando il giovane ha percorso su due ruote la lunga fondamenta che si affaccia sul canale della Giudecca, tra gli sguardi stupiti dei passanti, entrando di diritto nel novero di imprese come l'automobile che attraversa il ponte di Calatrava o il tuffo con tavola da surf dal ponte degli Scalzi. Ripreso da numerose telecamere, il ragazzo che ha pernotato nella zona di Santo Stefano è stato infine identificato e multato e riceverà anche un daspo da Venezia. C'è stato un tragico incidente frontale in moto in Istria che si è verificato addirittura ieri ma se ne è avuta notizia oggi. A perdere la vita, secondo le informazioni fin qui a disposizione, una coppia veneta, lei veneziana di 90 di Piave e lui trevigiano di Oderzo. Lui morto sul colpo, lei deceduta all'ospedale. È una coppia veneta, quella rimasta vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato ieri nell'area centrale dell'Istria tra Pisino e Mompaderno in Croazia. Scarne le informazioni finora diffuse dalla polizia croata intervenuta sul posto che non ha al momento diffuso le generalità delle vittime in attesa di raggiungere i familiari. Lui 46 anni di Oderzo, lei 39 di 90 di Piave. Procedevano a bordo di una moto, una BMW, quando improvvisamente lungo la strada statale Il furgone, condotto da un cittadino croato di 58 anni, poi denunciato a piede libero, li avrebbe travolti durante una manovra di sorpasso in un tratto in cui non era consentito superare altri veicoli. Terribile è lo schianto, con il 46enne che guidava la moto morto sul colpo e la 39enne trasportata in condizioni disperate all'ospedale di Pola, dove poi si è spenta. In Italia e Veneto la notizia dell'incidente frontale con le due vittime è arrivata solo oggi. Ma né a Oderzo né a 90 le istituzioni sono state informate ufficialmente dell'accaduto e soprattutto dell'identità della coppia che ha perso la vita e che si trovava presumibilmente in Croazia per vacanza. Con loro sono 12 le vittime della strada in Istria dall'inizio dell'anno. Ancora una rissa presumibilmente legata al mondo dello spaccio nel territorio comunale di Venezia. Questa volta è accaduto nel centro di Mestre, poco prima della mezzanotte, ad affrontarsi in via Carducci una mezza dozzina di giovani magrebini e nigeriani. Sul posto è intervenuta la polizia. Episodi che appaiono simili sono capitati nei giorni scorsi a Rio Marin e in campo Santa Margherita a Venezia. 20 steward intanto vigileranno tutta la notte sulla movida jesolana. Il comune ha dato il via a un nuovo provvedimento per evitare risse e vandalismi nella località balneare. A Jesolo parte un nuovo servizio per garantire che la movida, in una delle località balneari più frequentate dell'Adriatico, si svolga senza risse o atti di vandalismo. Dando esecuzione ad un progetto avviato durante la precedente amministrazione, il comune guidato dal neosindaco Cristopher Dezzotti dà il via ad una nuova iniziativa di controllo del territorio. Da ieri sono presenti una decina di steward che arriveranno fino al numero di venti nei prossimi giorni che saranno operativi nella zona centrale di Piazza Massini, nell'Arenile e sulla piazza dalle 23 alle 5 del mattino per andare a fare informazione e prevenzione rispetto ai comportamenti da tenere e a un divertimento civile. Tra i centri con la vita notturna più vivace e che soprattutto esercitano una forte attrattiva verso i più giovani, Jesolo ha vissuto fenomeni di degrado e violenza nelle ore notturne il cui contrasto è ai primi posti nell'agenda dell'amministrazione. Questo ci permette di supportare l'attività delle forze dell'ordine, della polizia locale che sono già operative, per garantire la sicurezza. Noi vogliamo dare un messaggio molto chiaro, ovvero che Jesolo è una città sicura e resta una città sicura. Ci sono dei comportamenti che purtroppo accadono in tutte le città molto frequentate ma che sono circoscritti e che vogliamo affrontare in maniera chiara e decisa. Se spesso certi comportamenti sopra le righe sono causati dall'abuso di alcolici, a Jesolo si è stretto anche una sorta di patto tra pubblici esercizi e magistrati per promuovere il rispetto delle norme e l'adozione di buone pratiche tra ragazzi e gestori di locali. Con ASCOM, FIPE, SILB e l'associazione nazionale magistrati presentato il progetto Bevi Responsabilmente che va a supportare un messaggio di divertimento sano e responsabile. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale andrà anche ad approvare alcuni provvedimenti che vanno nella direzione di rafforzare ancora di più la sicurezza percepita e andare a limitare i fenomeni di disturbo dell'acqua pubblica, di risse e che possono orvinare le vacanze. C'è anche un 27enne di Pianiga tra i denunciati per la violenta aggressione avvenuta a un 37enne in quella di Bassano del Grappa. Lesioni in concorso aggravate da futili motivi e con crudeltà in orario notturno. Ne devono rispondere un 26enne bassanese e un 27enne di Pianiga nel Veneziano accusati di aver aggredito con inaudita violenza un uomo di 37 anni di Montebelluna vicino alla stazione ferroviaria di Bassano. I carabinieri sono risaliti ai due dopo una lunga attività investigativa. I fatti risalgono al 4 settembre 2021 quando la vittima, in piena notte, è stata assalita da quattro individui con il volto parzialmente travisato che l'hanno preso a calci e pugni anche in pieno viso, tanto da farlo cadere a terra facendogli perdere i sensi. Si erano poi dileguati. Il ferito, quando si era ripreso, aveva chiamato in aiuto alcuni amici che l'avevano portato al pronto soccorso, dove i sanitari gli avevano riscontrato ferite guaribili in più di 40 giorni. Sporta denuncia ai carabinieri di Via Emiliani, i militari, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle descrizioni della vittima, sono risaliti ai due principali autori dell'aggressione. Per loro è scattata la denuncia per le gravi lesioni. Manifestazione al pontile di Santa Maria Elisabetta del Lido da parte di diversi esponenti del Partito Democratico Veneziano perché il servizio di trasporto pubblico in Laguna torni com'era prima della pandemia. Come segretario del Lido sono anche io qui a volantinare a Piazzale Santa Maria Elisabetta per avere un trasporto pubblico migliore, sicuro per i cittadini e per i dipendenti, per i lavoratori di ACTV. E' importante per il territorio, è importante per le isole, ancora di più, in quanto l'alternativa non esiste. Dobbiamo trovare un modo per migliorare questo trasporto pubblico e chiediamo fortemente all'amministrazione un investimento serio su questo fronte. Il turismo è ripartito a pieno regime, il trasporto pubblico no e il Partito Democratico si mobilita ancora una volta. Oltre al segretario metropolitano Matteo Bellomo, dalla segretaria cittadina Monica Sambo al capogruppo a Caffarsetti, Giuseppe Sacà, vari esponenti del partito hanno incontrato i pendolari all'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta a Lido, distribuendo volantini in cui si denuncia una situazione cui bisogna porre rimedio. Gli utenti sono tornati a livello del 2019 ma i servizi già all'epoca insufficienti assolutamente no. Code, battelli sovraffollati, questa è la realtà quotidiana e a quale l'amministrazione deve mettere rimedio al più presto. Il consigliere regionale, Jonathan Montanariello, è stato sindacalista e ha lavorato con ACTV. Non si può andare avanti in una città capoluogo con code esasperate ai pontini, code esasperate alle fermate dei bussi. Il servizio pubblico va sicuramente rinforzato, non si può pensare che tutti i problemi che stanno accadendo in questi giorni si possano scaricare sui lavoratori imputandoli in maniera a volta anche impropria di assenze motivate. Difficile pensare ad una città in cui il trasporto locale rivesta un ruolo di servizio pubblico più di Venezia. Se si vive nelle isole non ci sono alternativi ai movimenti, a meno che non si compri una barca. È tutto impensabile, oggi c'è il turismo, c'è una città che deve vivere, c'è una città che ha bisogno di muoversi. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha sequestrato un'area di 500 metri quadri adibita a discarica abusiva e svariate tonnellate di rifiuti. Due persone sono state denunciate. A conclusione di un'indagine riservata durata alcuni mesi, il nucleo operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Chioggia ha accertato un'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non, priva di qualsiasi autorizzazione. L'interattività era svolta abusivamente da due persone. I militari hanno sequestrato un'area di circa 500 metri quadri, una vera e propria base logistica al cui interno venivano effettuate diverse lavorazioni direttamente a contatto con il suolo, senza alcuna precauzione per l'ambiente. Svariate tonnellate di rifiuti e i due mezzi che quotidianamente venivano utilizzati per l'attività della discarica sono stati sequestrati. Le due persone, incensurate, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Venezia. In contemporanea, quasi tutto il resto del paese sono partiti oggi anche in Veneto i saldi estivi, secondo un sondaggio di Confesercenti Venezia, rimangono un momento atteso dal 60% dei consumatori. Secondo un sondaggio condotto dalla Confesercenti metropolitana di Venezia Erovigo, su un campione di circa 200 consumatori, il 60% era in attesa dei saldi estivi appena iniziati per acquistare articoli ai quali stava pensando da tempo. In prevalenza si tratta di donne e di giovani sotto i 24 anni. I saldi sono un appuntamento fisso del commercio da tempo, ma stavolta, rileva la presidente di Confesercenti Veneto, Cristina Giussani, non mancano differenze rispetto al passato. La prima grande novità è che partono lo stesso giorno in tutta Italia, quindi questa secondo noi è una cosa importante. E l'altro tema è che i prodotti che ci sono nei negozi oggi sono un po' diversi rispetto agli altri anni. La merce è in quantità minore, le giacenze sono inferiori per ragioni varie, di produzione, di Covid, di materie prime, eccetera, per cui secondo me quest'anno sarà ancora più interessante andare a acquistare i saldi. C'è poi uno spettro che si agita all'orizzonte, la possibilità che tra un futuro non molto lontano, la difficile situazione internazionale che stiamo vivendo possa avere conseguenze ancora più marcate nei prezzi. Le materie prime aumentano, l'energia aumenta, per produrre ci vuole energia ci vogliono materie prime, in alcuni casi le materie prime addirittura scarseggiano, per cui è molto probabile che in autunno vedremo un aumento dei prezzi. Quindi davvero questo è il momento di fare degli acquisti. Sempre secondo il sondaggio di Confesercenti metropolitana Venezia Rovigo, oltre la metà di coloro che faranno acquisti in saldo, si recherà presso i negozi di fiducia. Ma soprattutto nella fascia più giovane, in costante aumento il ricorso all'acquisto online. La cosa più bella è avere le città con i negozi aperti, con le luci che illuminano le strade, le vie, le fondamenta alla sera, la luce di un negozio aperto. Quindi quale occasione migliore per tutti i cittadini di incrementare la domanda interna e l'economia interna, facendo gli acquisti proprio nei negozi di vicinato, che a partire da sabato avranno i saldi. Un'esercitazione notturna di salvataggio in mare, con tanto di elissoccorso, l'ha organizzata l'Uls4 in spiaggia a Jesolo, anche per sensibilizzare i turisti sui pericoli che si possono correre in vacanza. Una maxi-esercitazione di salvataggio in spiaggia, al calar del sole, di fronte ad una platea di turisti che ne ha potuto seguire le varie fasi anche attraverso descrizioni in lingue diverse per gli stranieri. E così, a Jesolo, l'Uls4 non solo ha testato l'efficienza dei mezzi e del personale di soccorso, ma ha anche reso l'esercitazione un'operazione di sensibilizzazione. Abbiamo simulato un primo soccorso di due ragazzi che si tuffano dal puntile, è uno degli eventi che purtroppo ancora succedono nelle nostre spiagge. Quindi queste esercitazioni che simulano praticamente la realtà sono non solo a scopo informativo, ma anche a scopo educativo nei confronti di tutti quegli ragazzi, di quelle persone che magari si mettono in situazione di pericolo, di rischio durante la vacanza. Il caso scelto per l'esercitazione è drammatico quanto possibile. Due ragazzi si tuffano da un pontile, uno si lesiona la spina dorsale dopo aver picchiato la testa sul fondale e l'altro rischia di annegare per salvarlo. Dopo l'allarme intervengono nell'ordine i bagnini di salvataggio, due equipaggi del 118 e valutate le condizioni fisiche dei feriti anche l'elissoccorso. Il tempo è il signore nell'attività del soccorso. Abbiamo visto che neanche 30 minuti, 25 minuti, si sono mossi sia i bagnini all'interno della spiaggia con le moto d'acqua, sono arrivati i mezzi di terra con i quad, le ambulanze e successivamente l'elissoccorso. Dai bagnini alla capitaneria di Porto al personale sanitario l'esercitazione ha dimostrato la fondamentale importanza del lavoro di squadra nel garantire con efficacia il pronto intervento in situazioni critiche. Dopo l'esercitazione in spiaggia, Piazza Carducci ha ospitato lezioni di pratiche salvavita e sono stati effettuati screening gratuiti. Serate analoghe verranno replicate anche in altre località balneari del Veneto orientale. Si avvicina intanto la donata triveneta degli alpini che si svolgerà ad Asiago dall'8 al 10 di luglio ma già da domani parleremo di alpini e altopiano con una serie di pillole sulle nostre emittenti e racconti per immagini. Racconteremo il rapporto fra le pene nere e questo meraviglioso territorio naturalmente su Antenna 3 aspettando gli alpini andrà in onda domani alle 20.15 poi alle 14.35 alle 20.15 e alle 23.25 poi di ogni giorno. Il legame fra gli alpini e l'altopiano dei sette comuni è fortissimo da sempre e verrà rinsaldato con la donata triveneta delle penne nere che si svolgerà dall'8 al 10 di questo mese ad Asiago. Un legame scritto in ogni singola pietra dell'ortigara con il sangue versato dagli alpini su quello che è diventato il loro calvario. Scritto con l'eroismo con l'abnegazione scritto con l'altruismo nei momenti di difficoltà anche dopo il carnaio della prima guerra mondiale con la voglia di stare assieme che ha già portato le penne nere ad animare i paesi e le contrade di quel meraviglioso mondo di boschi e prati che è l'altopiano. Momenti di storia e di vita vissuta che diventano brevi racconti pillole fatte di immagini e parole per conoscere meglio quel rapporto indissolubile. Dall'ortigara al sacrario del Leiten dagli eroi della prima guerra ai musei dell'altopiano dagli episodi poco conosciuti fino ai bellissimi filmati della Dunata del 2006. Le pillole andranno in onda ogni giorno già da domani a ridosso della nostra informazione per tutta la settimana. Un bel modo per avvicinarsi al grande evento di Asiago che potrete seguire con le dirette del gruppo Media Nord-Est aspettando gli alpini per ricominciare tutti assieme da dove ci eravamo lasciati. Noi chiudiamo qui grazie per averci seguito tra poco l'edizione di Treviso come sempre ora le previsioni del tempo per domani una buona serata una buona domenica arrivederci. Benvenuti al meteo l'alta pressione africana non molla la presa e arroventa l'Italia sul nostro territorio tanto caldo e poche piogge più che altro in montagna vediamo il dettaglio di domenica 3 luglio sul Veneto la giornata festiva sarà caratterizzata come vediamo dalla presenza del sole il cielo sarà sgombro da nubi sulle zone montane sviluppo di cumuli che potranno essere associati a rovesci o locali temporali specie sulle dolomiti clima affoso con temperature minime tra 16 e 24 gradi massime invece comprese tra i 30 e i 36 gradi spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso sarà soleggiato e anche in questo caso sui monti il cielo potrà essere nuvoloso e non si esclude qualche isolato rovescio temporalesco temperature minime tra 20 e 25 gradi massime sui 32 e 34 gradi infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo poche novità sarà soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano associato a rovesci e temporali sparsi temperature minime intorno ai 19 20 gradi massime sui 34 35 gradi dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento di Antenna 3 per ora di Antenna 3 per ora di Antenna 3 a